Dopo le dimissioni rassegnate venerdì scorso, il sindaco Brucchi si è preso qualche giorno di riposo in campagna per riflettere e lasciar riflettere soprattutto i dissidenti sulle ripercussioni negative che un commissariamento comporterebbe alla città di Teramo. Ma il tempo stringe, poiché l'ultimo giorno utile per ritirare le dimissioni sarà l'11 maggio e dunque Brucchi presto inizierà una serie di consultazioni per tentare di ricomporre una maggioranza coesa su pochi punti programmatici di fine consigliatura. E veniamo ai numeri. I temi sui quali convergere potrebbero essere tre. Ricostruzione pubblica e privata, realizzazione di poli scolastici antisismici e la necessaria approvazione del bilancio. La nuova giunta potrebbe essere formata da cinque assessori o al massimo sei, la metà costituita da tecnici e l'altra da politici e si parla di pochissime riconferme. Una proposta complicata che il sindaco Brucchi dovrà elaborare in questi giorni e che dovrà far digerire a chi in consiglio comunale non lo vota più. La carta della responsabilità da addossare all'opposizione non sembra sia dando buoni risultati. In fondo al litigare per poltrone ed incarichi in questi ultimi due anni è stato il centro-destra Terramano che alla fine è imploso su se stesso. Brucchi promette pubblicamente che non subirà pressioni o ricatti da alcuno in questa fase di ricomposizione il che fa immaginare difficoltà insormontabili. Se alla fine dei giochi i numeri non dovessero tornare, almeno lui ci avrà provato. In città arriverà il commissario e il sindaco sarà pronto e disponibile ad accettare una candidatura al Parlamento per Forza Italia. Una storia che vede tutti i protagonisti, tranne i cittadini di Terramo.